Allora, posso chiederti quanto hai sul tuo conto bancario? Ultimamente mi chiamano sui 26.000. Ah, e cosa fai nella vita? Lavoro per emergersi. Fantastico, grazie. Posso chiederti quanto hai sul tuo conto bancario? Sì, certo, ti dico una bugia, 5.000 euro. Ah, si fattura bene qua da bottarga, allora. Posso chiederti quanto hai sul tuo conto bancario? Zero. E questi regali, come li hai presi questi regali? A nonna. Bella per la nonna. Ciao.